e allora intanto benvenuti a tutti buon pomeriggio io sono francesca di wikimedia italia questo è un webinar con l'avvocato marco ciurcina che ci parlerà di immagini e licenze e licenze libere questo incontro si svolge nel nell'ambito di un calendario di eventi che noi come associazione stiamo promuovendo in questo periodo diciamo di emergenza coronavirus in cui non è possibile incontrarsi dal vivo e quindi diciamo come gli altri incontri sarà completamente diciamo registrato e poi reso disponibile sul nostro canale youtube non so se tutti conoscono wikimedia italia noi siamo un'associazione che si occupa di diffondere la conoscenza aperta e l'uso delle piattaforme wikimedia per chi vuole sapere di più su di noi trova un po di informazioni sul nostro sito www.wikimedia.it informazioni tecniche sulla vostra sinistra ci sono dei tasti il primo serve il primo quello più a sinistra serve a condividere lo schermo non lo utilizzate lo utilizzerà solamente marco quello al centro una manina serve ad alzare la mano se avete una domanda quindi se volete intervenire io vedo che avete alzato la mano e quindi posso darvi la parola ehm il terzo tasto quello diciamo tra quelli a sinistra più all'estrema destra eh permette di aprire una chat eh in cui potete anche assegnarvi un un nome eh vi chiediamo di farlo di assegnarvi appunto un nome in modo da capire chi siete e in caso eh insomma vogliate parlare eh capire chi è che sta cercando di di fare una domanda se volete scrivere in chat delle domande senza interrompere appunto marco nella sua spiegazione possiamo poi porgliele alla fine della della sua relazione a tutti chiederei semplicemente di poter spegnere la camera e il microfono eh mentre si terrà la relazione di marco così insomma cerchiamo di rendere più stabile la piattaforma e di non e di non interrompere io direi che che mi taccio e ho anche così sono riuscita a far passare anche i cinque minuti accademici per cui lascerei la parola direttamente a marco e per qualsiasi cosa scrivete pure nella nella chat ok buongiorno eh mi chiamo marco ciurcina sono avvocato sono eh mi occupo di queste cose anche eh come insegnante insegno diritto ed etica della comunicazione al politecnico di Torino me ne occupo anche come attivista sono un attivista per i software libero e per i diritti fondamentali nel digitale eh dunque adesso vi condivido le slide eh aspettate un attimo che le apro e condivido lo schermo allora di eh di che cosa parliamo? Parliamo di di foto di diritti che eh interferiscono col fare una foto e col distribuirla quindi questa eh quindi parleremo innanzitutto eh di diritto d'autore ma non solo di diritto d'autore anche di diritti connessi in particolare di un diritto connesso che è il diritto su sulle semplici fotografie e sequenze di immagini in movimento come si chiama che è un diritto connesso eh previsto nella legge sul diritto d'autore perché la legge su diritto d'autore non è solo la legge del diritto d'autore ma è la legge che disciplina il diritto d'autore una serie di diritti che tutti insieme si chiamano diritti connessi ma che sono anche piuttosto disomogenei ci sono diritti strani come eh il diritto del eh non lo so sui bozzetti di scene eh scene teatrali oppure eh il diritto sul titolo di un giornale insomma ci sono un sacco di diritti strani uno di questi diritti è il diritto connesso che si applica alle fotografie che non sono tutelate dal diritto d'autore poi parleremo dei diritti che spettano alle persone che sono oggetto di ritratto o che comunque eh si vedono violati in una qualche maniera nei loro diritti quando si fa una foto che li riguarda come per esempio una foto della loro casa per fare un esempio parleremo poi di licenze libere perché noi qui amiamo la libertà e la condivisione e quindi eh vedremo che ci sono eh delle ricche le conoscete perché la licenza creative commons attribution share alike è la licenza di di wikipedia quindi certamente le conoscete e mh e poi parleremo del diritto sulle riproduzioni di beni culturali che è previsto nel codice dei beni culturali e del paesaggio decreto legislativo 42 del 2004 e che è un diritto strano che abbiamo in Italia e in pochi altri paesi del mondo che eh crea cioè costringe a riflettere un po' di più eh di quello che sarebbe che è necessario in altri paesi eh su eh sulla libertà di fare foto di beni culturali diritto d'autore e i diritti connessi perché la legge sul diritto d'autore che in Italia è la legge 633 del 1941 tratta di diritto d'autore e anche altri diritti un insieme un insieme di diritti anche disomogenei che hanno caratteristiche natura diversi che eh tutti insieme si chiamano insomma il nome di categorie diritti connessi diritti connessi che a volte hanno ad oggetto l'opera tutelata dal diritto d'autore e spettano ad altri come per esempio il diritto dell'artista interprete ed esecutore altre volte sono diritti che spettano su cose che non sono opera dell'ingegno di carattere creativo ma qualcosa che gli somiglia quindi eh allora quindi il diritto in questo momento parliamo prima del diritto d'autore il diritto d'autore che è previsto appunto dalla legge eh 633 del 41 e tutela che cosa? Che cos'è tutelato dal diritto d'autore? vero e proprio il vero e proprio diritto d'autore la definizione contenuta nell'articolo 1 è opera dell'ingegno di carattere creativo quindi la prima il primo elemento è l'opera dell'ingegno la creazione che viene dalla testa di qualcuno che richiede il contributo della testa di qualcuno quindi un'opera creata da qualcuno da un essere umano questo è quindi il primo elemento ehm dell'opera tutelata dal diritto d'autore l'essere una creazione dell'ingegno la creazione di un di un di un essere umano poi di carattere creativo cosa cos'è il carattere creativo cosa si intende per carattere creativo si intende l'opera che ha due caratteristiche primo deve essere nuova non deve essere una cosa che c'era già e poi deve essere originale deve essere riconoscibile come qualcosa di nuovo ma anche di originale di capace di essere identificata in modo autonomo dalle altre dalle altre cose quindi un'opera che ha carattere creativo quindi che nuova ed è originale chi è il titolare del diritto d'autore ho detto prima opera dell'ingegno quindi che viene dalla testa di qualcuno il titolare normalmente salvo eccezioni che sono previste in alcuni casi nella legge sul diritto d'autore il titolare dei diritti è la persona che crea l'opera no il il creatore l'autore dell'opera e sì ci sono delle eccezioni ma o comunque ci sono dei casi nei quali eh si ha uno spostamento della titolarità dei diritti eh economici eh dei diritti eh parlerò poi della differenza tra diritti morali e diritti patrimoniali o diritti di sfruttamento economico comunque il titolare normalmente quasi sempre è il creatore dell'opera eh come sorge questo diritto come come nasce il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera con la sua eh estrinsecazione si dice in generale quindi in alcuni casi non serve materializzarla basta eh non so una poesia basta declamarla oralmente ma nel caso della foto è in eh coessenziale alla natura del 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 tipo di opera che ci sia un atto di creazione una materializzazione nel senso di o ehm fissa cioè lo scatto determina la creazione della foto quindi eh la fissazione o in formato digitale nella memoria del della propria fotografia del proprio telefono eh in in formato digitale o in formato analogico quando si usano eh macchine fotografiche convenzionali vecchio vecchio tipo diciamo quindi l'atto della creazione il click per capirci l'atto di creare la foto determina il sorgere del diritto il diritto d'autore dura 70 anni fino alla conclusione del settantesimo anno dopo la morte dell'autore quindi il 31 dicembre del settantesimo anno dopo la morte dell'autore l'opera eh cessa di essere tutelata dal diritto d'autore entra nel pubblico dominio come si dice e quindi diventa disponibile per essere riutilizzata da chiunque il contenuto del diritto d'autore allora il diritto d'autore eh più giustamente più correttamente si dovrebbe chiamare eh cioè si dovrebbe dire che non c'è un diritto d'autore ci sono i diritti dell'autore perché ehm la legge sul diritto d'autore identifica un fascio di facoltà che spettano all'autore eh ma a monte diciamo direi che è importante molto importante distinguere due tipologie di diritti diritti morali e diritti patrimoniali i diritti morali sono eh tre il diritto di ehm il diritto di ehm il diritto di essere riconosciuto autore di rivendicare la propria qualità di autore di un'opera e il diritto di identificarsi come come autore e il diritto eh di paternità gli altri due diritti morali sono il diritto di opporsi a modificazioni dell'opera che le danno il proprio onore o la propria reputazione il terzo diritto morale è il diritto di ritiro dell'opera dal commercio questi tre diritti sono diritti morali e in quanto tali sono inalienabili e eh in in terminale non hanno scadenza sono perpetui sono diritti che non scadono mai invece i diritti patrimoniali d'autore i diritti ehm di sfruttamento economico dell'opera sono diritti che hanno come vi dicevo prima una durata fino alla fine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore eh i diritti ehm sono qualificati agli articoli 12 e seguenti della legge sul diritto d'autore l'articolo 12 eh dice in via generale che spettano all'autore il diritto di pubblicazione e tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera così eh diciamo l'articolo 12 quindi fa da cappello a tutti i diritti che poi sono articolati negli articoli successivi eh per pubblicazione si intende eh utilizzazione di uno o più dei diritti di utilizzazione economica previsti successivamente i diritti eh d'autore i diritti patrimoniali d'autore sono il diritto di riproduzione diritto di eh moltiplicazioni in copie eh dell'opera il diritto di modifica cioè diritto di apportare modifiche all'opera di qualsiasi tipo è un diritto esclusivo dell'autore il diritto di distribuzione cioè il diritto di far circolare in eh far circolare in commercio copie dell'opera vendere copie della foto o eh vendere un libro che include eh copie copie della foto questi sono sono degli esempi ehm allora scusatemi un attimo allora diritto di riproduzione diritto di eh modifica distribuzione diritto di comunicazione al pubblico la comunicazione al pubblico che può essere un pubblico presente per esempio al cinema o al teatro o un pubblico distante nel caso di eh comunicazione dell'opera a mezzo eh mezzi di comunicazione quindi radio, televisione, internet. L'avvento di internet ha negli ultimi anni eh portato a raffinare il il contenuto del diritto di comunicazione al pubblico e oggi si dice che eh è compreso nel diritto di comunicazione al pubblico il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera in modo tale che ciascuno possa avervi accesso nel momento e nel luogo scelto individualmente. Questo è eh quello che succede su Wikipedia o comunque su qualunque sito internet. L'utente accede e visualizza un contenuto che può essere un'opera tutelata dal diritto d'autore, una foto tutelata dal diritto d'autore e quindi in quel momento viene esercitato dal da chi mette a disposizione l'opera, da chi ha, da chi gestisce il sito internet eh nel quale lui ha pubblicato la foto il diritto di messa a disposizione del pubblico dell'opera. Eh poi c'è il diritto di noleggio e prestito che anche sono ehm sono diritti esclusivi dell'autore anche se stai andando avanti con le slide. Scusa eh scusami non io non avevo il microfono chiuso eh mi dici tu quindi quando devo andare avanti? Sì 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 sì. Ok perfetto perdonatemi ma io ho il microfono chiuso perché se no se accendo il microfono e metto nel mio schermo voi vedete il mio schermo e non le slide. Ah ok. Eh dunque questo deviamo siamo una slide avanti se non erro stiamo ancora parlando del contenuto del diritto d'autore ehm stavo eh dicendo quali sono i diritti ehm diritti di riproduzione eh riproduzione distribuzione noleggio e prestito c'è anche un altro diritto strano ma non si applica alle alle fotografie quindi non ve lo dico eh diritti di comunicazione ve l'ho detto diritto di modifica c'è anche il diritto di pubblicazione dell'opera in raccolta che è un altro diritto esclusivo previsto dal titolare dei diritti. Eh quindi il contenuto ecco ecco il diritto d'autore però eh che attribuisce eh questi diritti eh spesso in forma esclusiva va va però tenuto presente che è una specie cioè non è un diritto di granito è un diritto che somiglia più a una groviera più che a un pezzo di marmo nel senso che sono previsti molti casi nei quali è consentita la libera utilizzazione dell'opera. Ci sono dei casi nei quali ehm sono attribuite delle libere utilizzazioni all'utente dell'opera. Eh adesso per esempio ehm un diritto che può applicarsi alle fotografie riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti in occasione di avvenimenti di attualità quindi ehm in quel caso ehm ci cioè si può fare una libera utilizzazione del della della insomma è previsto una libera utilizzazione eh oppure le opere orfane per le quali è possibile le opere orfane sono le opere di cui eh si è perso memoria di chi sia il eh il titolare comunque dopo una ricerca eh ben accurata non si riesce a identificare il titolare dei diritti allora in questi casi eh certi enti hanno diritto di esercitare eh un diritto di accesso una libera utilizzazione o eccezione e limitazione del diritto d'autore eh le riproduzioni di le fotocopie di pagine di libri ecco anche questa è una libera utilizzazione anche se c'è una foto sul libro io posso fotocopiare la pagina del libro oppure eh la copia privata di fonogrammi e videogrammi eh foto e video e audio no? C'è diritto di fare copia per uso eh personale senza fine di lucro eh rispettando certe condizioni anche a fronte del fatto che noi paghiamo un ecocompenso sui dispositivi che ecco però vedo che sono sto andando un po' lento allora ehm il diritto d'autore circola eh tendenzialmente con atti scritti quindi eh con atti scritti significa con ehm con contratti o è bene che ci sia una licenza altrimenti la libera utilizzazione di un contenuto eh può essere ostacolato. Slide successiva. Ok. Poi c'è il diritto connesso stabilito dal all'articolo 87 agli articoli 87 seguenti della ehm della legge sul diritto d'autore. Questo è un diritto che abbiamo in Italia, un diritto eh particolare diciamo eh che è diverso dal diritto d'autore. Innanzitutto eh l'oggetto è diverso perché eh non qualsiasi foto ma eh foto che costituisca immagine di persone, aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Non costituisce oggetto di questo diritto connesso la foto di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, quindi solo certe foto sono tutelate con questo con questo diritto connesso. Il soggetto è sempre chi fa la foto, quindi il fotografo e può avere diritti sulla foto nel caso in cui la foto si costituisca eh riproduzione di un'opera tutelata, anche l'autore dell'opera ovviamente ha dei diritti sulla foto, come si costituisce con lo scatto, quanto dura? Vent'anni dalla data di esecuzione della fotografia, quindi questo diritto connesso è molto più breve del diritto d'autore, ci sono in giro molte foto che non hanno più diritti perché eh evidentemente non sono tutelate al diritto d'autore e questo diritto connesso è scaduto perché eh sono passati più di vent'anni. Qual è il contenuto del diritto? È il diritto eh come viene menzionato nell'articolo 88 di riproduzione, diffusione e spaccio. Sono formule un po' così, un po' anche antiche come come modo di esprimersi, eh riproduzione, diffusione e spaccio e evidentemente hanno ad oggetto eh fotografie eh eh analogiche, no? Quindi per esempio in queste norme troviamo delle regole particolari come per esempio quella che fa presumere il trasferimento dei diritti sulla foto in caso di cessione dei negativi, cioè infatti tra fotografi questo se ti do i negativi ti sto cedendo i diritti sulla fotografia. Poi c'è una una regola molto interessante da conoscere, c'è una regola che stabilisce una presunzione invertita rispetto alla la violazione del diritto d'autore, cioè se la foto eh non indica, non è accompagnata dal nome del fotografo, della ditto del committente, dall'anno di riproduzione della fotografia e se l'opera riproduce un'opera eh cioè se la foto riproduce un'opera tutelata dal diritto d'autore il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata eh si presume che chi riutilizzi la foto non se cioè non stia violando nessun diritto eh quindi si presume eh la libertà di riutilizzare la foto se non se chi la riutilizza in buona fede e non sono presenti queste menzioni eh nella fotografia. Allora eh scusami una domanda in chat se posso Marco eh Alessio chiede se è il caso delle foto di un quadro di quello di cui stavi parlando. La foto di un quadro se il quadro costituisce opera tutelata dal diritto d'autore eh sì ma il punto è se non è un'opera dell'ingegno di carattere creativo cioè se la foto è la foto pure semplice di un quadro in Italia non è tutelata dal diritto d'autore è tutelata da questo diritto connesso qui e quindi se la se il quadro è tutelato dal diritto d'autore ci sarà diritto dell'autore del quadro e del fotografo sulla foto altrimenti eh se il quadro è passato in pubblico dominio eh c'è solo il diritto del del fotografo che quindi può licenziarla con licenza libera se questa era la domanda. Ok qui vi parlo del del creative commons le licenze creative commons eh vado veloce eh vi dico eh se vai avanti un paio di slide ci dovrebbe essere quattro attributi eh vai ancora avanti ok qui le le licenze creative commons sono licenze eh che hanno l'obiettivo di eh concedere flessibilità agli autori sono quindi un set di sei licenze formate dalla combinazione di quattro attributi attributo attribuzione che richiede il riconoscimento dell'attribuzione della fotografia della fotografia non uso commerciale che richiede eh l'uso solo per fini non commerciali eh quindi non si può fare uso commerciale poi non opere derivate e sceralaico condividi allo stesso modo che incidono tutti e due sulla facoltà di modificare di fare opere derivate di modificare la fotografia il no derivative eh dice che non puoi fare opere derivate lo sceralaico dice che puoi fare opere derivate a condizione che se le distribuisci le distribuisci secondo gli stessi termini di licenza che l'autore della fotografia applicato nei tuoi confronti quindi se vai avanti dalla combinazione di questi quattro attributi considerando che no derivative e share alike sono incompatibili tra di loro derivano le sei licenze creative commons che non sono tutte licenze libere nel senso tecnico del termine tanto è vero eh perché alcune contengono la clausola no derivative altre contengono la clausola non non uso commerciale tanto è vero che un po' di anni dopo l'uscita delle licenze creative commons se vai avanti di una slide ehm si vai avanti ancora di ehm ecco va bene va bene qua ma anche la slide dopo eh lo sintetizzo così un un gruppo di eh persone che venivano dal diciamo dal mondo del software libero e che quindi avevano a mente l'idea di libertà come concepita nel mondo del software libero cioè come libertà eh non vista dal punto di vista dell'autore ma vista dal punto di vista dell'utente cioè il chi fa software libero fa software libero e garantisce certe libertà all'utente no la libertà di usare la libertà di studiare come funziona di modificare di distribuire anche in versione modificata quindi queste sono le libertà che definiscono il software libero quindi questo gruppo di persone ha elaborato un'idea di opera culturale libera riprendendo i i concetti chiave del della della definizione di software libero e ha elaborato quindi la definizione di ehm opera culturale che si applica solo a due della licenza creative commons la licenza attribution e la licenza attribution share alike incidentalmente la licenza attribution share alike e la licenza del progetto creative commons dopo che per un po' di tempo se vai eh avanti di una slide la licenza del progetto eh del progetto wikipedia era ehm era la la freedom documentation license che è una licenza del progetto GNU eh che si applica alla documentazione che esiste da molto prima delle creative commons ma insomma l'attribution share alike oggi va benissimo ora se vai avanti ehm ecco finora vi ho parlato di eh diritti eh di chi fa la foto eh vi ho parlato anche di diritti eh di chi fa la foto eh verità di chi fa la foto eh di chi fa una foto deve ehm deve ehm ehm chi fa una foto deve assicurarsi di eh avere diritti di farla e a volte a volte ehm a volte a volte la la l malling a volte la persona c'è a volte si interferisce con i diritti delle persone delle persone che vengono ritratte Allora, la legge, diciamo, esistono una categoria di diritti che si chiamano diritti della personalità. Quando l'oggetto della foto è una persona o la sua immagine o comunque elementi caratteristici della sua persona, della sua figura, del suo profilo riconoscibile, altri elementi che lo identificano in modo chiaro, allora entrano in gioco il diritto all'immagine e il diritto al ritratto. Quindi per fare la foto di qualcun altro e metterla su internet, per dirla in parole semplici, bisogna avere il diritto di farlo. In particolare, allora, l'articolo 10 stabilisce che chiunque veda pubblicata la propria immagine fuori dai casi in cui questo è consentito, può o comunque, nel caso in cui la diffusione della propria immagine, gli rechi, pregiudizio al decoro, alla reputazione, può opporsi. Poi è molto importante anche il disposto degli articoli 97 e seguenti della legge sul diritto d'autore, che stabiliscono, diciamo, allora lo chiamo un meccanismo a scatole cinesi. La regola è che non è possibile utilizzare il ritratto di un'altra persona, quindi ci vuole il suo consenso. Però c'è un'eccezione, non è necessario il consenso se la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto. Quindi se io faccio la foto di un politico perché c'è una ragione e quindi quella foto può essere utilizzata, può essere messa sui giornali, a meno che non sia nella sua casa privata e così via. Poi giustifica la riproduzione, fare il ritratto di una persona a necessità di giustizia e di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali e questo è particolarmente importante soprattutto per voi, se la riproduzione della fotografia è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o comunque svoltisi in pubblico. Quindi fare una foto di una folla che partecipa a una manifestazione è perfettamente legittimo perché c'è un avvenimento pubblico e quindi la riproduzione del ritratto delle persone riprodotte nella fotografia è resa legittima da questa circostanza. Eccezione nell'eccezione non è comunque legittima la riproduzione del ritratto di una persona se tale riproduzione reca pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ritratta. Quindi questa costituisce eccezione all'eccezione. Quindi comunque va rispettato il decoro della persona nel fare la fotografia, nel diffonderla. Un'ultima notazione, questo gioco ad incastro, a scatole cinesi, per cui prima regola vietato, secondo sia eccezioni sia eventi pubblici o altri casi, però comunque rispettare l'onore alla reputazione, il decoro fa sì che la regola, cioè che la possibilità di fare foto vada interpretata in senso restrittivo. Quindi per esempio ormai è stato chiarito da tempo, dalla giurisprudenza, che il fatto che qualcuno abbia partecipato a una manifestazione non legittima il riuso di quella fotografia per fini diversi, come per esempio per fare una pubblicità. Era successo anche questo, si erano utilizzate delle foto che identificavano chiaramente una persona per poi fare pubblicità, quindi sfruttare l'immagine, questo almeno la giurisprudenza italiana lo esclude che sia legittima questa cosa, ci vuole l'articolo 96 non legittima qualsiasi uso della foto realizzata in occasione di un evento pubblico, ma solo usi funzionali alla informazione rispetto all'evento pubblico o altri usi simili. Allora qui mi sono dimenticato, temo una slide, mi è saltata, stai qui o torna indietro uguale, perché i diritti di privacy, un altro diritto molto importante che limita la legittimità dell'uso delle fotografie di una persona è il diritto alla privacy, perché l'immagine di una persona sotto altro profilo costituisce elemento informazione relativa alla persona e quindi tra l'altro c'è stata proprio oggi una sentenza di un'alta corte tedesca che ha riconosciuto il diritto del genitore di vietare al nonno di pubblicare la foto del nipote senza il suo consenso e quindi ha obbligato il nonno a rimuovere la foto del nipote dai social network. Quindi la pubblicazione di fotografie va comunque fatta con il consenso o con altra causa di giustificazione che è causa di liceità dell'uso della fotografia ai sensi del regolamento sulla protezione dei dati del GDPR e quindi la foto si può fare ed utilizzare se c'è o il consenso o se c'è un contratto che costituisce un'altra causa di liceità o c'è una condizione che si definisce di bilanciamento quando si possono fare foto senza il consenso senza un contratto alla base o senza altra causa di liceità tra quelle previste dall'articolo 6 della legge del GDPR quando c'è un bilanciamento che questa è la causa di liceità indicata dall'articolo 6 lettera F ed è il caso nel quale il realizzare la foto e usarla costituisce esercizio di un legittimo diritto del titolare di colui il quale fa la foto del titolare del trattamento, dei dati che non lede e non sopravanza il diritto della persona di cui i dati si tratta quindi della persona ritratta quindi per esempio se io ho una telecamera che riprende un pezzo di strada davanti a casa mia per ragioni di tutela e ho messo il cartello e adotto comunque misure tale per cui il ritratto della persona che passa non lo tengo troppo lo salvo solo un tempo determinato e poi lo butto via e comunque l'unico scopo per il quale uso quelle informazioni è la sicurezza di casa mia e obbedire agli ordini dell'autorità se qualcuno mi ordina di dargli la foto nel breve tempo in cui la conservo ecco questa attività è perfettamente legittima quindi diritti della personalità e privacy sono comunque diritti dei quali tener conto nel realizzare fotografie se vai avanti poi parliamo di quest'altro diritto strano che abbiamo solo in Italia e in altri pochi paesi del mondo c'è in Egitto mi pare alcuni paesi tendenzialmente paesi che come noi hanno un patrimonio culturale importante nei quali a un certo punto la così di ingordigia di qualcuno ha portato a pensare che fosse importante stabilire un diritto che limita la facoltà di riprodurre i beni culturali quindi queste norme sono molto controverse molto travagliate e anche si può discutere hanno una storia sono nate prima cioè il diritto degli enti preposti alla custodia dei beni come diritto di impedire la riproduzione dei beni nel senso di fare fotografie forse è nato prima nei decreti attuativi che nella norma stessa perché gli articoli 106 seguenti nella loro formulazione originaria oggi è più difficile sostenere questo perché ci sono state delle modifiche soprattutto agli articoli successivi che rendono più difficile difendere questa posizione però nella loro formulazione originaria si poteva ancora discutere del fatto che ci fosse un diritto un diritto esclusivo dell'ente preposti alla custodia di autorizzare la circolazione delle riproduzioni del bene che ha loro dato in custodia comunque gli articoli 106 seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio questo è il nome del testo del decreto legislativo 42 del 2004 stabiliscono che per fare foto di beni preposti di beni in custodia di enti dello Stato poi vedremo cioè devono essere enti dello Stato enti territoriali minori non tutti gli enti pubblici quindi alcuni enti pubblici che hanno in custodia dei beni hanno il diritto hanno la facoltà di autorizzare o non autorizzare la riproduzione del bene stesso e hanno diritto di richiedere a fronte della concessione dell'autorizzazione il pagamento di un canone questo dice l'articolo 106 poi c'è l'articolo 108 che dice che nessun canone in effetti il 107 è l'articolo che parla del diritto di riproduzione gli articoli 106 seguenti sono quelli che disciplinano questa materia ma l'articolo che prevede l'autorizzazione è il 107 il canone è previsto nel 108 il comma 3 qui vi leggo un po' di più cioè vi approfondisco brevemente due commi dell'articolo 108 che sono frutto di travagliate modifiche nel tempo che hanno portato a alleggerire un po' la portata della norma però ancora siamo la situazione è migliorata molto ci dobbiamo domandare se e quando si possono effettivamente fare fotografie senza violare il diritto di riproduzione previsto da queste norme quindi il comma 3 dice nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale per motivi di studio ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione per cui attuate senza scopo di lucro qui si autorizza cioè si liberalizza si esclude il canone ma non si esclude ancora l'autorizzazione perché ci vogliono tutte e due l'autorizzazione a far la foto e il pagamento del canone il comma 3 esclude il canone per questi casi quindi per esempio Wikipedia forse rientra nella finalità di valorizzazione anzi non ho dubbi e soprattutto non ha scopo di lucro quindi direi che ci rientra comodamente però più importante ancora è il comma successivo se vai al vai ancora una slide avanti ecco questo comma è particolarmente importante è stato modificato non so quante volte almeno due e introduce una liberalizzazione totale quindi esclude sia l'autorizzazione sia il pagamento del canone perché dice sono in ogni caso libere quindi qui con questo comma si dice non c'è canone non c'è autorizzazione da richiedere quando si fanno queste cose le seguenti attività svolte senza scopo di lucro per finalità di studio ricerca libera manifestazione pensiero espressione creativa promozione della conoscenza del patrimonio culturale qui Wikipedia ci sta direi comodamente quindi Wikipedia è libera di fare le cose che vengono dopo e le cose che vengono dopo sono la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivisti sottoposti a restrizione di consulta quindi beni archivistici no attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene nell'esposizione dello stesso assorgente luminoso e all'interno degli istituti a cultura l'uso di stativi o treppiedi quindi riproduzione e fare la foto fare la foto e poi fare copie vabbè questo se si intende nel senso nel quale il termine riproduzione è inteso nella legge sul diritto d'autore comunque anche stando all'interpretazione restrittiva non cambia molto quindi la foto si può fare rispettando il diritto d'autore quindi quando sono beni culturali dei quali è scaduto il diritto d'autore se si sta in queste finalità la foto si può fare e poi viene la parte un pochino più ancora rispetto alla quale sarebbe utile qualche ulteriore approfondimento ma io personalmente ho le mie idee e poi ve le dico però sono le mie idee personali la seconda cosa che si può fare è divulgare con qualsiasi mezzo le immagini di beni culturali legittimamente acquisite ecco e qui viene la parte difficile in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro quindi la divulgazione e quindi la pubblicazione su un sito internet la messa a disposizione del pubblico come si dice utilizzando l'espressione utilizzata nel diritto d'autore si può fare in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro che cosa vuol dire questo e qui il problema è che non c'è nulla che aiuti a intendere che cosa vuol dire questo ulteriormente riprodotte a scopo di lucro allora io vi dico la mia questo è il mio pensiero qui non si sta non si sta dicendo devi usare una licenza creative commons attribution commercial perché non è che devi intervenire sul piano del diritto d'autore secondo me quindi su wikipedia con la sua attribution non c'era e con l'altra licenza può andare purché non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro allora che cosa vuol dire non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro a me piacerebbe fosse sufficiente penso sia sufficiente aggiungere alla foto vietata si riserva il diritto ai sensi dell'articolo 106 seguenti legge diritto legge codice dei beni culturali del paesaggio in capo all'ente tal dei tali se volete fare foto se volete usare la foto chiedete a loro per fini di lucro chiedete a loro questo secondo me soddisfa la necessità di evitare che possa essere riprodotta ulteriormente a scopo di lucro chi riceve la foto è fatto avvertito è reso edotto del fatto che la foto non può essere ulteriormente utilizzata per scopo di lucro d'altronde questa menzione non costituisce un'eccezione alla licenza creative commons attribution share a lie quella licenza che si decide di libera che si decide di applicare alla foto perché perché è un altro diritto non è che si interviene qui sul diritto d'autore o diritti connessi che spettano sulla foto quelli sono liberi nel momento in cui io applico la licenza libera do i miei diritti di far la foto però sulla foto insistono altri diritti così come su tutti i contenuti di wikipedia insistono altri diritti tutti i contenuti di wikipedia ogni ogni contributo è identificato da un nickname o da un da un da un indirizzo ip cioè il nickname associato a un indirizzo email a un utente oppure se uno carica del contenuto fa un contributo in wikipedia anonimo lo identificherà sarà identificato con l'ip dal quale si è connesso che anche è idoneo a caratterizzare i contenuti caricati come dati personali perché l'ora e il luogo di caricamento e l'ip rendono quel contenuto quel contenuto dato personale perché l'internet service provider è in grado di identificare la persona che ha caricato quel contenuto questo per dirvi wikipedia è un grande mare di dati personali e wikipedia pubblica tutto con licenza libera però non è che chi prende le foto prende i contenuti di wikipedia poi perché trova la licenza libera fa quello che vuole e viola i diritti di privacy di tutti gli utenti di wikipedia deve rispettare la privacy così chi prende la foto che costituisce riproduzione di un bene culturale non è che perché trova la licenza attribution share a like con la foto ci fa quello che vuole deve rispettare il diritto dell'ente preposto alla custodia del bene quindi spero di essermi fatto capire però vi dico questa è una mia posizione personale ne avevo anche scritto un po' di tempo fa sarebbe utile che il ministro prendesse posizione su questo in modo da rendere chiaro che wikipedia può utilizzare le foto senza perdere tempo e farsi autorizzare per farlo oppure sarebbe bello se le dessero un'autorizzazione omnia che vale per tutto e per sempre ma purtroppo non c'è dato che chi deve dare questa autorizzazione l'ente preposta alla custodia e qui andiamo alla slide successiva che credo sia l'ultima o quasi sia l'ultima allora attenzione non tutti i beni culturali solo quelli che sono in carico a certi enti quelli che sono in carico al ministero quelli che sono in carico agli enti pubblici territoriali che hanno in custodia i beni non a che ne so all'ente adesso non mi tengo in mente altri enti pubblici però ce n'è un mare di altri enti pubblici che non sono né il MIBACT né enti pubblici territoriali quindi il diritto è il diritto di questi enti e non di tutti questo per circoscrivere poi da fine c'è da ricordare che un po' d'anni fa rispondendo a un'interrogazione parlamentare il ministero dei beni culturali aveva chiarito che fare le foto di un bene culturale dalla pubblica via di un bene che non è che non è come dire che dà sulla pubblica via cioè non per esempio il Colosseo purtroppo è recintato quindi non dà sulla pubblica via si vede dalla pubblica via però non dà sulla pubblica via quindi non hanno detto esattamente quello il fatto che un bene un bene culturale dia sulla pubblica via esclude che si debba richiedere l'autorizzazione per farne la foto gli estremi di quell'interrogazione se volete ve li do ho finito e vi ringrazio se dai la slide successiva c'è il mio indirizzo email al quale potete scrivermi per qualsiasi cosa domande a voi sì ci sono un po' di domande in chat ma forse le vogliono fare mi sentite adesso scusate insomma infatti si sentite bene bene perfetto allora io riprenderei dalla prima domanda che era scusate sto scorrendo era ecco quella di Manuela che diceva ma i diritti connessi non dipendono anche dallo scopo della foto no direi non è quello il criterio è la natura della foto creativa o meno cioè guardi la natura creativa o meno della foto quindi se ha carattere creativo è opera dell'ingegno di carattere creativo tutelata dal diritto d'autore a prescindere da quale sia l'oggetto fotografato quindi io posso fare la foto di un oggetto che però è creativa non lo so perché una foto di un oggetto può diventare non lo so prospettive particolari non lo so comunque se la foto è creativa allora entra in gioco la tutela di diritto d'autore se invece la foto non è creativa ed è foto di avvenimenti di fatti della vita sociale le altre cose che vi avevo detto prima è tutelata dal diritto sulle semplici fotografie disciplinato l'articolo 87 seguenti poi Matteo chiede ma allora le creative commons hanno a che fare con i diritti connessi le creative commons hanno licenziano i diritti connessi secondo me sì perché licenziano i diritti anche simili al diritto d'autore diciamo quindi adesso l'espressione esatta se vuoi la vado a cercare però a memoria sì non licenziano solo il diritto d'autore è espressamente menzionato anche il diritto sui generis del costitutore di banche di dati però se aspettate un attimo vado a cercarvi la frasetta che dice proprio io leggo quello che c'è in chat se poi chi ha posto la domanda vuole articolare meglio ovviamente libero di intervenire di fatto mi sembra di capire che al di là del buy le altre licenze hanno a che fare con la riproduzione la distribuzione la copia eccetera eccetera cioè con i diritti connessi no 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 le 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 comunque hanno a che fare con il diritto d'autore e nella misura in cui si è condivisa questa impostazione anche con i diritti connessi ma cioè il diritto lo share alike è un limite al diritto di modificazione quindi il diritto di modificare è anche un diritto il diritto è una facoltà dell'autore quindi che spetta l'autore di un'opera creativa quindi sono diritti che le creative commons incidono su tutti su tutte le facoltà di diritto d'autore non so se ho detto la risposta alla domanda no scusami solo poi però ci sono anche gli altri ma lo share alike non ha a che fare solo con la licenza cioè io ti licenzo e tu dovrai rilicenziare nello stesso modo ma non è che tu puoi modificare l'opera quello è no derivative e altre cose insomma share alike e condividi allo stesso modo se modifichi condividi allo stesso modo se modifichi e ridistribui è come il copyleft della gpl se tu modifichi e ridistribuisci lo fai con la stessa licenza ok grazie prego bene poi alessio chiede mettiamo il caso di un prodotto multimediale se scarico una foto con una licenza share alike la modifico in grafica devo ricondividere con gli stessi diritti solo la foto modificata o l'intero prodotto nel quale viene inserita in altre parole il prodotto multimediale che contiene la foto mantiene la paternità dell'autore o dell'azienda che lo realizza o diventa materiale share alike nella sua interezza se se adesso bisogna vederlo in concreto però da quello che capisco io hai fatto un collage dove c'è una cosa unica che include anche la foto modificata una cosa tipo una presentazione con una foto in share alike ma una presentazione uno una presentazione è una la slide cioè un insieme di slide è una collezione di secondo me non necessariamente però mi riservo di approfondirla un attimo ti chiedo la cortesia di mandarmi un'email e ci rifletto un attimo perché è una questione che sulla quale non ho mai riflettuto nello specifico però mi Marco poi al termine di questo webinar insomma quando avremo la registrazione manderemo il link ai partecipanti mettiamo in copia la tua mail così chi vuole contattarti può farlo comunque hai anche proiettato il tuo indirizzo e sì e non hai scampo sì no 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 ma volentieri dico a chi ha fatto questa domanda anzi di scrivermi un'email che così gli rispondo perché mi con piacere l'approfondisco però preferisco guardarmela bene rileggendo il testo della licenza per essere per essere tranquillo mi sembra che cioè se tu fai un'opera derivata tendenzialmente sì adesso quindi dovresti rispettare la share a like dirti se una una slide di una presentazione in ogni caso mi viene da dire di sì però fammelo rivedere ecco quindi che vada rispettata la copyleft se c'è una slide con che riproduce una foto però ho bisogno di rileggermi scusatemi ok vado con l'altra domanda una prossima domanda se otteniamo posso in merito alla mia domanda fornirò la mia mail volentieri il discorso è se io prendo una fotografia che in sé non non costituisce l'opera perché l'opera è molto più grande mi serve quella fotografia perché cito per dire un quadro una statua un'opera che ha su wikimedia io la prendo da wikimedia commons per dire la ritaglio semplicemente faccio un formato diverso sono tenuto sicuramente a ripubblicare il nuovo taglio ma il mio problema è siccome la foto in sé non costituisce l'opera su cui sto lavorando ma è un contributo diciamo collaterale che va ad arricchirla a un minimo ma non costituisce l'opera in sé non si parla di quella foto nell'opera ma è come un addobbo su un quadro appeso a un appartamento non costituisce l'appartamento insomma mi chiedo se pregiudichi o meno l'interessa dell'opera in sé beh però il fatto che tu crei un'opera che include l'altra fa pensare che sia un'opera derivata se tu fai non so come dire fai una cosa unica nella quale c'è dentro anche la foto è un derivato della foto adesso l'unico dubbio che mi resta è se una slide contamina le altre slide cioè se una slide in share alike perché c'è dentro la foto in share alike implica che anche tutte le altre slide vadano in share alike ma all'interno del collage che fai non ho non è un collage è un contenuto didattico in questo caso per cui io parlo di un'opera ci sono dei testi e ci sono le foto delle opere stesse prese da Wikimedia ma allora aspetta un attimo il fatto che tu la citi lì siamo forse un fuori dal diritto d'autore perché il fatto che tu stai facendo fai un uso della fotografia che è autorizzato dal dal diritto d'uso della foto per finalità didattiche quindi aspetta che ti cerco l'articolo l'avevo forse anche menzionato prima la libera utilizzazione del sì la riproduzione a scopi didattici e culturali infatti quello mi lo segniamo 65 l'articolo 65 comma 2 le riproduzioni o comunicazioni al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati no questo non c'entra in occasione avvenimenti di attualità ma non è questa ce n'è un'altra aspetta intanto vogliamo leggere qualche altra domanda non so se avremo il tempo di farle tutte nel senso che ne stanno arrivando molte e quindi ok vai io vado sempre in ordine e sempre Alessio se otteniamo liberatori dei soggetti partecipanti all'evento pubblico possiamo usarle anche per scopi pubblicitari per i diritti morali Ruthven per i diritti morali il ritiro di un'opera dal commercio si può esercitare anche senza nessun motivo no si può esercitare quando l'è del proprio onore decoro e soprattutto l'esercizio del diritto richiede il pagamento il risarcimento dei danni dell'editore adesso quindi di chi era stato originariamente autorizzato alla commercializzazione dell'opera posso dire che io conosco solo un caso cioè la giurisprudenza la dottrina ricorda un caso in cui è stato esercitato questo diritto proprio perché costa esercitarlo ed era il caso di un di uno che prima era fascista poi ha cambiato è diventato comunista e allora non è così quindi c'era una ragione etica profonda che lo ha portato a ritirare dal commercio i libri che aveva pubblicato prima molto raro che si eserciti questo diritto e poi Lorena chiede posso inserire la fotografia di una copertina di una rivista all'interno di una voce wikipedia che parla appunto della specifica rivista o ancora per lo stesso scopo posso utilizzare una fotografia in rete allora io con direi cioè con formula dubitativa direi di sì perché stai riproducendo e comunicando al pubblico un pezzo del della rivista cioè una pagina della rivista con evidenti scopi di così in wikipedia non c'è uno scopo commerciale e quindi c'è uno scopo di divulgazione diciamo che l'interpretazione che si dà su wikipedia e sui progetti wikimedia è andiamo un pochino più sul sicuro rispetto a quello che sta dicendo Marco quindi diciamo su wikipedia ti diremmo no perché no però appunto perché la nostra diciamo l'interpretazione della comunità che vige adesso dalla comunità di wikipedia dei progetti wikimedia in Italia è è vero che wikipedia e i progetti wikimedia non sono a scopo commerciale quindi sarebbe come dice Marco ma visto che la licenza che utilizziamo permette l'uso commerciale allora noi vogliamo essere a posto anche con i possibili usi commerciali quindi non permettiamo quello che chiede Lorena cioè la comunità non permette questo questo è un punto di vista che makes sense certo sì capisco vogliamo proprio evitarci possibili ironie insomma ma guarda queste cose il problema è prendersi il rischio non prenderselo spesso e qui uno spazio di uno spazio c'è certo e visto appunto la posizione sempre della comunità io mi faccio portavoce usurpando ovviamente questo diritto che nessuno mi ha dato però la posizione della comunità è visto che chiunque può contribuire su Wikipedia e sugli altri progetti se questo se noi permettiamo a questo chiunque di fare una cosa per cui comunque si deve prendere qualche rischio mettiamo magari a rischio delle persone ignare non so come dire permettiamo a delle persone che magari non sanno tutto questo che c'è dietro di poter essere contestate in qualche modo che gli si chiedano dei danni dei soldi insomma questo e quindi visto che e poi è l'utente che carica la foto e che utilizza quel contenuto a prendersi il rischio non è Wikipedia allora la comunità di Wikipedia vuole proteggere le persone che contribuiscono non mettendole a rischio e insomma non prendendosi rischi ecco in questo caso make sense quindi allora se mi dici qual è la scelta prudente è non caricarla cioè ovvio la risposta è molto semplice qual è la scelta prudente non caricarla però se sì io capisco capisco benissimo ovviamente il discorso che stai facendo Marco che dal punto di vista di come è scritta la legge della volendola interpretare rigorosamente eccetera è possibile interpretarla anche come come stai dicendo tu e probabilmente sarebbe più giusto e più bello farlo come dici tu una copertina di una rivista non puoi escludere che non dico che sia sempre così ma non puoi escludere che possa essere configurata un'opera dell'ingegno un'opera tutelata dal diritto d'autore o che comunque contenga degli elementi tutelati dal diritto d'autore questo non è sempre vero non è sempre vero ma in certi casi può esserlo quindi se vuoi adottare una una posizione prudente assumi che by default ogni copertina di rivista è sottutelata dal diritto d'autore assumi by default che che è meglio non caricarle punto certo bene Ivan chiede se c'è uno schema riassuntivo da qualche parte con tutti i casi di diritti da verificare se faccio una foto o un video uno schema da verificare una tabella non so che cosa no no non mi viene in mente se volete la facciamo si può fare si può fare Ferdinando chiede le autorizzazioni di Wikileaks Monuments perché continuiamo a chiedere autorizzazioni se in realtà non ce n'è bisogno penso che rientri giusto nella nella nel discorso che abbiamo fatto adesso certo io sarei per non chiederla però la vecchia mia idea però anch'io non credo che il ministero vi venga a correre dietro immagino il ministro che vantaggio potrebbe avere il ministero a impedire la circolazione di opere su Wikipedia soprattutto se Wikipedia è attenta a diffondere l'informazione che quelle opere non si usano per fini commerciali quindi vabbè comunque è una mia personalissima posizione supercilum per rispondere alla domanda prima di Mattia ha linkato in chat un percorso guidato sul copyright delle immagini che potrebbe essere utilizzato per controllare se puoi o non puoi utilizzare queste immagini ipotetiche copyright immagini percorso guidato per la domanda sullo schema da verificare bene se non ci sono altre domande mi sembra che possiamo salutare mi sembra che non ci sia nient'altro va bene allora nonostante i numi avversi ce l'abbiamo fatta siamo arrivati in fondo al webinar ti ringraziamo molto Marco e nei prossimi giorni metteremo faremo un po' di montaggio toglieremo le parti le parti d'attesa eccetera di questo webinar e lo ripubblicheremo sul sul canale youtube di Wikimedia Italia e vi spediremo ai partecipanti la giusto Francesca la presentazione di Marco sì esatto a tutti voi che avete partecipato arriverà una mail non appena avremo finito di fare questa attività di taglia e cuci insomma e avremo il video con anche la presentazione di Marco e l'ultima cosa che vi ricordo è che il prossimo venerdì sempre allo stesso orario alle 17 ci sarà un incontro con sempre con Marta e Marco Chemello che ci parlerà di collaborazioni tra diciamo wikipediani wikimediani e piccole istituzioni culturali musei o biblioteche la procedura per iscriversi è sempre la stessa una mail a segreteria chiocciola wikimedia.it grazie a tutti e buon fine settimana a